benvenuti bentornati sul mio canale amanti del cinema amanti di scream per un nuovo video che lo so stavate attendendo la classifica aggiornata dei film di scream dal peggiore al migliore già all'inizio dell'anno avevo registrato un video simile ma non tenendo in considerazione scream 6 ora che l'ho visto per ben cinque volte penso di avere proprio le idee chiare ci saranno dei cambiamenti se volete prima di proseguire con la visione di questo video nel caso non l'aveste fatto potreste recuperarvi il precedente così scoprireste subito le mie vecchie idee per capire come oggi siano cambiate ve lo linko qua sopra nelle schede guardatelo e poi tornate tornate qua che così nel giro di quasi un anno potreste ascoltare un parere chi lo sa diverso uguale sicuramente questo sesto capitolo da qualche parte andrà inserito se vi ricordate questo ve lo rivelo in anticipo nel vecchio video che ho registrato il quinto film l'avevo messo all'ultimo posto nonostante mi fosse piaciuto tantissimo ma per un semplice motivo perché tra me e me dicevo voglio capire se i radio silence matt bettinelli olfin e tyler gillett abbiano avuto fortune che quindi siano riuscite ad azzeccare il film una tantum oppure se anche col sesto mi sorprenderanno ora che ho visto il sesto possiamo partire con la classifica dunque voglio innanzitutto dirvi che quando vedrete accanto a me le locandine utilizzerò dei poster proprio realizzati da niccolò uberti che è un altro grande fan della saga io ho scoperto queste immagini per puro caso su instagram e quindi l'ho contattato per dirgli guarda sono bellissime complimenti le realizza proprio lui nel caso ti ti andasse bene le vorrei utilizzare nei miei prossimi video mi ha detto di sì quindi seguitelo chiedetegli magari i vostri disegni personalizzati a tema ghostface perché se la cava egregiamente iniziamo con il sesto posto scream 3 west graven un film bellissimo ovviamente anche quello che capita all'ultimo posto è comunque un gran lungometraggio di brutti in questa saga non ne esistono di film però è quello che più rivedo e più mi convince di meno nonostante ci sia una grandissima critica anche feroce e spietata verso la hollywood dei predatori sessuali john milton e harvey weinstein in un film prodotto dagli stessi fratelli weinstein e questo e questo scream ce lo diceva nel 2000 cioè un film ottimo il terzo e però in confronto agli altri è quello che leggermente mi convince meno seppura ci sia una grande sydney prescott c'è il personaggio di mark kinkade che chissà se prima o poi rivedremo è forse anche quello più horror solo che ogni volta che ci penso nel terzo all'ennesima visione percepisco come per quel che mi riguarda l'ironia e l'horror non siano ben amalgamate come cose come avrei voluto cioè lo sappiamo scream ha sempre ironizzato ha sempre fatto comunque anche della satira cinematografica il suo punto di forza nel terzo c'è tanto horror è forse il più horror quasi sovrannaturale c'è anche tanta comicità ma le due cose non si abbracciano a mio avviso opinabile e non condivisibile al 100% sempre bene quindi direi di iniziare con scream 3 che posiziono al sesto posto ma ricordandovi che comunque è un grande film trovereste anche la mia recensione ne parlai anni e anni fa ma se cercaste su youtube paolo innocenti scream 3 la trovereste come del resto di ogni capitolo della saga qui quinto posto già qua so che farò venire i primi infartini a qualcuno ma io metto il bellissimo scream 4 lo so per tanti è addirittura superiore al primo lo so anch'io che gill roberts sia un personaggio pazzesco che quel colpo di scena ogni volta mi faccia restare a bocca aperta anche se già so che sia lei la colpevole però 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 tenendo in considerazione gli altri capitoli della saga io mi sono affezionato molto di più senza tenere in considerazione gill a personaggi che abbiamo visto successivamente oppure precedentemente diciamo che il quarto ha delle chicche al suo interno e ha dei momenti di alto cinema horror la fotografia del quarto è splendida il grande ritorno a woodsboro linus gail weathers sydney prescott e poi il personaggio di kirby che poi rivedremo nel sesto solo che se io dovessi far riferimento agli altri personaggi del film i comprimari il gruppo dei futuri morti non riesco ad affezionarmi ci come ad esempio se dovessi pensare ai protagonisti del quinto o del sesto c'era molta meno caratterizzazione cioè io fatico nel quarto a ricordarmi nomi dei personaggi non principali a differenza invece di quel che accade in un quinto in un sesto capitolo dove io voglio bene a tutti anche a quelli che muoiono dopo poco quindi il quarto per me questa cosa me la fa percepire seppur sia un film splendido e ragazzi ci mancherebbe a dei momenti incredibili fra i migliori della saga e comunque è stata un'emozione incredibile per me lo ricordo ancora perché fu la prima pellicola di scream vista al cinema quindi anche se al quinto posto scream 4 è un film altamente degno di nota solo che anche se pensiamo a all'altro ghost face non è che proprio cioè va bene gil roberts però charlie è quello che forse un po mistona maggiormente quarto posto ragazzi quarto posto ed ecco dove posiziono scream 6 rivisto prima di girare questi video perché poi ne sto realizzando realizzando tanti in un unico pomeriggio voi li vedrete settimanalmente parlando e scream 6 è un film grandioso scream 6 è un film sicuramente con dei difetti ma che sa rilanciare ancora una volta la saga nel migliore dei modi ci troviamo nel sequel del requel nuovi personaggi quelli vecchi che già amiamo e per assurdo non sentiamo la mancanza di sydney prescott già questa è una cosa che potrebbe insomma far capire quanto per me questo film valga visto che non si sente la mancanza dell'iconica protagonista ci sono delle scene truculente forti spietate forse è il film più drastico di tutti anche nella violenza e l'ho amato il personaggio del detective bailey ma a me piace tanto anche etan queen il personaggio di danny che si chiama proprio come danny rolling il vero assassino che poi ha ispirato ghost face non so se lo sapete ma nel caso trovereste un video anche su questo argomento al riguardo sul canale quindi scream 6 come si porta avanti anche la storia delle sorelle carpenter la grande genna ortega la grande melissa barrera tara sam io preferisco sam ma comunque la sottotrama anche più romantica veramente alla kevin williamson se vogliamo fra chad e tara chad che sopravvive pensiamo a sam con danny il museo diciamo che il sesto se la gioca tantissimo con il quinto il finale clamoroso il momento in cui il detective bailey si risveglia e si rende conto che il costume di billy sia sparito e arriva poi sam con il costume di billy e lo pugnala con quella regia dei radio silence pazzesca circolare intanto lei che ha coltella che lo ha coltella ovunque e poi arriva tara io a differenza di mio padre non sono un assassino però tu hai toccato la mia famiglia e quindi il coltello nell'occhio finale clamoroso con poi le due sorelle che si consolano a vicenda il televisore nel viso a itan come è accaduto a stu l'ho imparato in un film dice kirby e poi questo finale in cui sam comunque sente il richiamo della maschera e la getta in terra oppure proprio come il killer ha ucciso e quindi ora lascia la maschera sul luogo del delitto duplice interpretazione grandissimo film grandissimi radio silence campione di incassi al box office quindi mi auguro veramente che un settimo capitolo venga presto confermato siamo arrivati al terzo al terzo posto siamo sul podio e al terzo posto metto scream 5 allora il quinto e il sesto sono lì lì per avere diciamo la possibilità di salire sul podio allo stesso modo però se proprio devo scegliere il quinto almeno dopo varie visioni del sesto poi potrei cambiare idea il quinto è un pelino sopra veramente dopo il quarto capitolo il quinto ha dimostrato come anche senza west craven si potesse far vivere west craven si potesse far risplendere omaggiandolo imparando dal maestro e regalandoci intanto un parterre di personaggi che ho nel cuore anche quelli che muoiono subito a differenza del quarto io i personaggi del quinto li ricordo pensiamo a west di lan minnet pensiamo comunque anche al al nipote di stumacher che muore subito eppure a me era subito entrato nel cuore era il bullo della situazione il quinto è un grandissimo omaggio al primo come il sesto è un grandissimo omaggio al secondo se penso alla prima volta in cui sam alza la testa e nello specchio vede il riflesso billy loomis cioè nel sesto ce lo potevamo aspettare nel quinto no un momento grandioso il sangue che richiama quel suo stesso sangue scopriamo che 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 sam sia la figlia di billy scopriamo che lo veda nelle sue immaginazioni insomma il quinto film quel finale poi richi richi kirsch ragazzi per me è un personaggio fantastico fra i migliori ghostface di sempre è iconico sin dall'inizio così ingenuo così ignorante in campo horror e poi invece furbo spietato aveva organizzato architettato tutto questo piano è perfetto veramente scrim 5 come va a riprendere da dal passato ma portando avanti l'idea del requel quindi ci si ricollega al passato ma con delle novità nel periodo storico in cui in cui gli legacy quelli il requel che dir si voglia prende sempre più il sopravvento quindi sul podio al terzo posto scrim 5 poi arriviamo alla medaglia d'argento che se la porta a casa quel capolavoro a mio parere di scream 2 scream 2 è un film che fra l'altro sto leggendo sia stato anche ridimensionato da alcuni ma per me è fantastico wes craven ci parla e ci critica comunque anche l'idea di fare sequel in un sequel cioè critica quell'idea in un sequel come giusto fare come sarcasticamente intelligente fare lo sappiamo che wes craven è un maestro si parla di sequel in un seguito ci sono due ghostface pazzeschi perché io amo mickey la signora lumis che poi scopriremo nel sesto chiamarsi nancy come nancy thompson è comunque un personaggio che non sorprende tanto nei panni di debbie salt sorprende quando scopriamo essere la madre di billy lumis e quindi la la vendetta che poi verrà replicata nel sesto che va ad omaggiare questo film di cui sto parlando è sicuramente scream 2 un film che gioca col cinema forse ancora di più rispetto al primo se il primo se se il secondo si conclude in un teatro il il sesto si conclude in un cinema anche proprio tutti i collegamenti io li amo e devo dire che lo conosco a memoria sidney la scena dell'automobile con con ghostface che è letteralmente un fantasma si estremizza il concetto il concetto di ghostface spettrale l'inizio al cinema con con i due con i due fidanzati che troveranno la morte per mano di ghostface maureen evans e phil stevens con la scena che poi è stata parodizzata anche in scary movie insomma scream 2 è una grandissima riflessione sul cinema horror e non solo si porta avanti uno slasher rinvigorito c'è un grande mickey ci sono dei grandi personaggi c'è la morte di rendi inaspettatissima e dolorosissima e quindi ragazzi direi che si possa meritare dignitosamente il secondo posto medaglia d'oro lì non ci si schioda lì il pensiero non cambia l'ennesimo capolavoro del maestro west graven scream nel 96 rivoluzionò tutto lo slasher ormai era morto non navigava più in acque buone si provava con jason a fare qualcosa ma il tutto non riscuoteva quel successo di un tempo fatto sta che dopo l'altro capolavoro di west graven che è stato nightmare nuovo incubo purtroppo flop al box office ma ne ho parlato nella mia retrospettiva sul nightmare non perdetevela sul canale ecco che arriva scream che rinvigorisce tutto che porta questa idea satirica parodistica dell'horror ma non dimenticandoci di farci paura billy loomis stumacher randy gail weathers linus cioè sono personaggi rimasti nella storia del cinema in toto non solo del cinema horror sono personaggi iconici ma quando uno pensa al cinema horror specialmente chi come me è nato negli anni 90 non può non far riferimento a scream scream ha cambiato le sorti ha cambiato le regole del cinema le ha rimodernizzate le ha plasmate su quei personaggi scream ci ha fatto divertire ci ha spaventato ci ha intimorito anche solo quando ci suonava il telefono e dovevamo rispondere scream è l'urlo che facciamo noi spettatori anche di bellezza non solo di dolore ma di estasi di infinita goduria quando ci troviamo di fronte ad una pellicola che è perfetta che è perfetta anche nelle imperfezioni che ci sono e che sono volute perché scream va a prendere in giro va a destrutturare le ingenuità del cinema horror poi nel corso del tempo questa cosa è diventata anche una paraculata della saga perché con questa scusa è tutto giustificato si può quindi accettare anche la cosa più fuori di testa e assurda però nonostante questo nel primo c'era l'idea del maestro c'era la grandiosità di Wes Craven che sono contento i radio silence abbiano saputo far vivere anche nei loro due film mi dispiacerebbe tantissimo se in un prossimo scream 7 non ci fossero i radio silence che già con finché morte non ci separi mi avevano sorpreso ma anche con vhs quindi scream è un finché sua memoria billy loomis cioè uno dei personaggi più 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 belli del cinema horror e non la scena finale colpisci sono pronto davvero hai chiamato la polizia mia mamma e mio papà saranno rubati con me cioè qual è il tuo film horror preferito l'inizio casey baker drew barrymore ma cosa c'è di più bello la presa in giro il quiz sui film horror per i cinefili è una manna dal cielo scream come si chiama l'assassino di venerdì 13 jason jason voris no dovresti ricordarti che nel primo era sua madre la signora voris voris la chiamava insomma è un filmone incredibile steve hort casey baker e pensate che steve hort aveva fatto il provino per billy loomis e poi non è stato preso e così come drew barrymore sarebbe dovuto essere sydney ma lei ha scelto di farsi uccidere subito per sorprendere il pubblico visto che era un'attrice in voga in quel momento quindi ragazzi è terminata qua la mia classifica giornata della saga di scream dal minore al diciamo superiore anche se quello che ho messo all'ultimo posto è comunque bellissimo scream 3 lo amo scream 4 lo amo però bisogna fare anche delle scelte bisogna fare dei sacrifici quale preferite più di classifica questa di oggi o quella che ho girato all'inizio dell'anno poi magari il prossimo anno la rigiriamo insomma potremmo farla sia quando esce un nuovo film sia quando mi prende lo scripizzo perché poi le idee cambiano velocemente solo sui primi due posti sono sicuro scream 1 e scream 2 anzi ci sono state le volte da più da bambino in cui il 2 lo preferiva il primo però c'è comunque dove caschi caschi bene vi ricordo di seguire tutti gli altri video a tema scream che trovereste sul canale così come vi ricordo assolutamente di abbonarvi perché se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana come ben sapete nella mia casa a milano oggi sono in toscano proprio il manichino di ghostface cioè il costume di ghostface l'avete visto il video dove faccio l'unboxing l'avete visto il video in cui sono alla milano comics and games e ho conosciuto carlo valli lo storico doppiatore di ghostface se non l'aveste fatto recuperateveli questi video che voglio sapere la vostra mi dispiace non avere qua ghostface con me ma in questo periodo sono sono a pistoia in toscana però l'avete visto più e più volte alla prossima lasciate like e condividete